Si è chiuso questa mattina al Liceo Nobel di Torre del Greco il laboratorio Orto Sinergico, nell'ambito del progetto Nuovamente Qui, realizzato dall'Associazione Torre Vesuvio Pro Natura, grazie al bando le comunità solidali del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. Insieme ai volontari e alla dirigente scolastica, all'incontro con gli studenti, sono intervenuti anche il sindaco Giovanni Palumba e l'assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati. Sono stati realizzati due laboratori in modalità didattica a distanza calibrati su due classi, la prima A e la terza B. L'obiettivo originario, spiega Paolo Belfiore, responsabile dell'Associazione, era quello di portare un gruppo di studenti nel giardino in via del lavoro a Torre del Greco, in gestione alla nostra associazione, per realizzare insieme un orto sinergico. Nella rimodulazione delle attività legate all'emergenza sanitaria, abbiamo voluto realizzare due percorsi molto diversi, ma con un obiettivo comune, ristabilire un rapporto con la natura che ci circonda. La prima A è stata virtualmente all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, attraverso una serie di video, anche realizzati dal team di esperti del progetto. A seguire le passeggiate virtuali attraverso i sentieri del Parco, alla scoperta delle caratteristiche tipiche della nostra zona, dalle rocce vesuviane, passando per le briglie borboniche, fino alle diverse specie di ginestra presenti nell'aria. Gli allunni della terza B, invece, hanno avuto la possibilità di riflettere sull'importanza della natura, intesa come ecosistema. Da cornici ai due laboratori, l'agrumito, arricchito di specie nostrane, da tipici odori e sapori, realizzato all'interno del giardino della scuola.